Associati olivicoltori ben ritrovati al numero 38 del periodico 20 settembre siamo in fase di invaiatura e con questa anche un'azione di appetibilità da parte della mosca delle olive nei confronti delle nostre drupe. Con molta probabilità siamo in presenza della terza generazione estiva della mosca che è considerata quella più aggressiva perciò un'attenzione particolare va alla difesa fitosanitaria contro questo ditero. L'abbiamo già esposto nei periodi discorsi ma andiamo ancora a ripeterlo. Cosa abbiamo a disposizione come agrofarmaci? Se abbiamo eseguito l'intervento fitosanitario alla fine di agosto andando ad utilizzare un inseticida, adulticida, ovo, garbicida sarà bene mettere in previsione di eseguirne un altro. Cosa abbiamo a disposizione come farmacopea? Naturalmente abbiamo sempre l'acetamipride da usare due volte all'anno, l'epic o il kestrel, attenzione ai tempi di carenza che hanno 21 giorni e poi abbiamo il civanto prime buono come adulticida, ovicida e anche larvicida, colpisce larve di prima, seconda e anche terza età. Un solo trattamento l'anno. Poi abbiamo gli adulticidi e qua abbiamo una differenziazione che vanno dal delta metrina alla lambda cellutrina, abbiamo poi il piretro che si può utilizzare anche in agricoltura biologica e in questo momento qui si può utilizzare bene anche l'olio essenziale di arancio, anche questo da utilizzare, se si vuole, nelle coltivazioni biologiche. Naturalmente abbiamo anche le esche, adulticide e qui possiamo dividerle. Per quello che riguarda il biologico abbiamo lo spinosat, ma si può usare anche in agricoltura convenzionale e dopo abbiamo l'exerel bite. Per lo spinosat otto trattamenti l'anno, per l'exerel bite tre trattamenti l'anno. Ci sono abbassate le temperature, è aumentata l'umidità, perciò come adulticida possiamo anche utilizzare il bacillus thuringiensis. Chi attua un'attività di contrasto alla mosca delle olive utilizzando polvere di roccia, qua abbiamo i caolini, i basalti, le bentoniti, le zeuliti, il talco. Devono andare a valutare, considerate che sono giunte le piogge, se la copertura della vegetazione, ma soprattutto delle olive, ha tenuto. Nell'eventualità bisogna andare ad effettuare un secondo o terzo intervento di copertura. Abbiamo sempre il problema della margaronia. Bisogna considerare che se noi andiamo a utilizzare azioni di contrasto alla mosca delle olive con adulticidi o con ovulervicidi, limitano l'attività anche di questo lipidotero. Nell'eventualità che si avessero degli impianti giovani, dove non si attua una raccolta perché non sono ancora entrati in fase di produzione, è possibile intervenire con saponi mogli potassici eventualmente uniti a olio di neem. Parasiti fungini. Aumento dell'umidità, diminuzione delle temperature possono creare le condizioni per nuove infezioni da occhio di pavone, da lebra, da piombatura. Nell'eventualità, se le riscontriamo nei nostri oliveti, è possibile effettuare un trattamento con prodotti rameici uniti allo zolfo. Attenzione anche qui ai tempi di carenza. Come lettura interessante per questa settimana, sul suggerimento di alcuni olifici, abbiamo approfondito un aspetto che era rimasto in sospeso la volta scorsa. Nel periodico precedente avevamo parlato dei limiti massimi di residuo nell'olio di oliva dato da prodotti fitosanitari, gli LMR. Però nelle attività commerciali, da alcuni anni, anche se non sono ancora un obbligo di legge, c'è la dose acuta di riferimento, la RFD. Abbiamo proprio declinato sui maggiori prodotti utilizzati in olivicoltura proprio per dare un riferimento all'olivicoltore e al frantoiano. Quali sono i limiti massimi in percentuale? Ad esempio, per l'olio di oliva, e prendiamo l'acetamipride, l'LMR, ossia i limiti massimi di residuo, sono di 0,01 milligrammi chilo. Invece la dose di riferimento acuta, ARFD, sono di 0,0017 milligrammi chilo. E adesso, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel augurarvi una buona lettura, a risentirci alla settimana prossima. Grazie a tutti.